Una palestra dello scasso e un deposito per lo stoccaggio dell'area furtiva. E' quanto hanno scoperto i carabinieri coordinati dalla Procura di Torino nell'ambito di un'operazione che ha smantellato una banda di georgiani specializzata in furti seriali con la tecnica della chiave bulghera. 28 le persone arrestate tra Italia e Germania, accusati di aver messo a segno almeno 85 furti in diverse regioni italiane. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di ricettazione e associazione per delinquere finalizzata al furto in abitazione e appartengono al clan Kutaisi, una delle famiglie più violenti e pericolose della mafia georgiana. Avevano messo radici in Piemonte, l'operazione è partita da Chivasone Torinese. La banda colpiva soprattutto in abitazioni ma anche uffici assicurativi, tutti tra Torino, Savona, Alessandria, Cuneo e Pavia. A Torino i carabinieri hanno individuato anche la palestra dello scasso, un magazzino usato per testare le chiavi bulgare e per provare nuove tecniche di effrazione, dove le prove erano a cronometro per abbassare sempre di qualche secondo i tempi d'azione. Il magazzino della rifurtiva, che vale centinaia di migliaia di euro destinata a essere inviata in Georgia, è stato trovato a Reggio Emilia. La ricostruzione della mappa di uno dei clan più potenti della mafia georgiana è relativamente recente, risale ai primi omicidi nel nostro paese, della famiglia specializzata in furti con scasso che rende riconoscibili i suoi affiliati per i tatuaggi, che sono medaglie d'onore come le tacche sulle pistole dei banditti del Far West.